A tutti buonasera dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Benvenuti all'appuntamento del venerdì con le previsioni del tempo per il fine settimana. Vediamo come di consueto il tempo che abbiamo avuto sino ad oggi, venerdì 13 dicembre. In questo inizio di mese sei giorni con cielo sereno, poco nuvoloso, quattro giornate variabili e tre giorni con cielo molto nuvoloso o coperto. Le piogge che sono cadute e che comprendono anche la neve che è stata fatta sciogliere e trasformata in acqua sono un totale di 31,7. Il valore atteso per l'intero mese di dicembre è calcolato con i dati degli ultimi 52 anni da quando iniziano le registrazioni del centro geofisico prealpino. Ci fa aspettare per dicembre un valore medio di 77,7 mm. Per raggiungere questo valore medio devono cadere ancora 46 mm di pioggia o di neve. Il deficit pluviometrico dall'inizio dell'anno resta alto e resta intorno ai 230 mm. Le temperature di questi inizio dicembre 4,7 gradi la temperatura media. Il valore medio ma per l'intero mese sono 3,7 quindi per adesso un grado in più rispetto a quanto previsto. Per quel che riguarda la temperatura più alta, la temperatura massima del mese, 12 gradi, l'abbiamo registrati il giorno 10, lontani dai 21 gradi registrati l'11 dicembre dell'84 qua a Varese. La temperatura più bassa, meno 2 gradi, registrata il 6 dicembre e un record per Varese di meno 12, valore registrato il 20 dicembre del 2009. Adesso possiamo passare all'immagine ripresa dal satellite Meteosat da una distanza di 36.000 km dalla superficie terrestre. Nell'animazione vediamo cosa è successo nelle ultime 24 ore. Troviamo una importante area di bassa pressione sulle isole britanniche che ha spinto due perturbazioni. La prima è transitata nella notte tra mercoledì e giovedì e la seconda invece è transitata proprio nella notte tra giovedì e venerdì. Queste due perturbazioni hanno portato nevicate un po' sulla fascia alpina, prealpina ma a tratti anche sulla pianura. Ora la perturbazione si sta allontanando e lascerà spazio a correnti forti da nord a nord ovest dovute ad aria che scorre tra l'anticiclone sulle azzorri e la bassa pressione che ha appunto al suo minimo sulle isole britanniche. Quindi un vento forte nella notte, nella mattinata di sabato e poi il tempo che sarà stabile ancora nella giornata di domenica ma in seguito un peggioramento. Le nevicate però resteranno a quote alte oltre 1.500 metri. Veniamo adesso alla carta di previsione per domani sabato ore 14. L'area di bassa pressione dal nord atlantico alle isole del nord Europa con dei minimi di 975 etto pascal. L'alta pressione della Zorre con massimo di 1.025 etto pascal sull'atlantico e l'area di alta pressione sulla Russia con un massimo di 1.030 etto pascal. Per la giornata di domani appunto le perturbazioni restano su alte latitudini e non raggiungono le nostre regioni. Previsioni del tempo. La serata sarà via via serena un po' su tutta la regione e avremo graduale ingresso del vento da nord. Per la giornata di domani sabato ben soleggiato e limpido. Il vento nella notte e nelle prime ore del mattino sarà anche forte, molto forte in montagna. e avremo favogno in aria pedemontana nelle valli e a tratti potrà spingersi nelle prime ore del mattino anche sulla pianura. Durante il giorno le temperature salgono anche proprio per effetto del favogno e sono comprese tra 8 e 12 gradi. Le minime invece tra meno 1 e 2 gradi. Locali gelate ma solo nelle zone riparate dal vento. La giornata di domenica sarà una giornata inizialmente ancora soleggiata ma nel corso del pomeriggio avremo un aumento della copertura nuvolosa. Resterà asciutto ma le temperature massime si abbassano e sono comprese tra 6 e 9 gradi. Le minime invece si alzano proprio per effetto della presenza della copertura nuvolosa e delle masse d'aria da sud ovest e sono comprese tra 1 e 4 gradi. Primi giorni della prossima settimana, lunedì, martedì e mercoledì, brutto tempo, cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e nevicate che però saranno al di sopra dei 1500-1600 metri. Con questo è tutto concluso, vi saluto, vi auguro buona serata, buon weekend e ci vediamo la prossima settimana.